Buonasera, questo è il nostro primo concerto agustico con la formazione completa. Speriamo vi piaccia e buon divertimento. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, 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 buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, 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 buonasera. Buonasera, 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 buonasera. Grazie a tutti 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 Mi manca il tuo sorriso di quando ti avevo vicino E tu che non mi chiami più ti ricordi di me Ho bisogno di te Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mi manca il tuo sorriso di quando ti avevo vicino 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 e tu che non mi chiami più ti ricordi di me Ho bisogno di te Di te, di te, di te Sicuramente si ascolti in discoteca di David Guetta, però l'abbiamo riarrangiato, visto che siete caldi se volete battere le mani, ballare, non lo so, quello che volete Grazie a tutti 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 Grazie a tutti